L'evento sismico del 24 agosto, prime risultanze, è il titolo del seminario ottenuto oggi nel capoluogo Sabino a Palazzo Dossi da Mauro Dolce, direttore dell'ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta del primo di una serie che la sede di rieti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza intende dedicare al terremoto del centro Italia. Ha spiegato il direttore della Sabina Universitas, Daniele Mitolo. La Facoltà di Ingegneria ha organizzato questo convegno per i ragazzi, per questo evento sicuramente tragico, ma è importante che venga affrontato. La presenza della Facoltà di Ingegneria a rieti è sicuramente un motivo di orgoglio per il nostro territorio, quindi siamo contenti. Presente è anche Giuseppe Sappa, presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria. Il seminario è il primo evento che abbiamo organizzato per riflettere, analizzare e informare a seguito degli studenti, ma anche i tecnici e i cittadini interessati, a seguito dell'evento sismico del 24 agosto. Sono qui principalmente per ascoltare Mauro Dolce, ha dichiarato il professore Renato Masiani della Sapienza di Roma, a cui sono stati affidati i saluti del seminario. L'Università può aiutare a fare prevenzione formando le nuove generazioni. L'Italia è un'area sismica, questo credo che ormai l'abbiamo capito tutti e dobbiamo attrezzarci per convivere con questo evento. Come ho detto prima, non è la natura che provoca i danni e le vittime, ma l'azione dell'uomo quando è sconsiderata. Noi su questo dobbiamo intervenire. Credo che il primo compito, in particolare dell'università, è quello di formare i giovani, per esempio i giovani professionisti, ad affrontare questi rischi. La zona del centro Italia, ha spiegato Mauro Dolce, è da sempre protagonista di eventi sismici. L'unica arma che abbiamo finora è la prevenzione. E la protezione civile, che non è un ministero, bensì un sistema, è disposta ad aiutare gli enti ad un adeguamento sismico.